C'è lui e il suo nonno che si chiama Bisunt. Gesemmo, andiamo! In collaborazione con Fortesan, un amico su cui contare. Sempre. Eccoci qua. Eccoci qua. Cos'è? È un frocione, è un frocione, scusa, frocione. No, blocca, no, blocca. Incazzo, eh? È vero, è vero. Ah, sorry. In collaborazione con Fortesan, un amico su cui contare. Sempre. Eccoci qua. Eccoci qua. Con la mia pena perenne. Questo ragazzo, finché non lo sopprimo, me lo trovo sempre qua nell'entrata. Come si chiama? Qui è Rocky, è un frocione. Ecco, ho detto, sono tre giorni che si dice orsetto lavatore. Orsetto lavatore, già, già. Oh, ok. Allora, noi entriamo perché ci sono finalmente i giovani, dopo le 15 ore, ci sono i giovani da seguire. Quindi entriamo, essendo lui un giovane, viene con me. Oh, chiudi la porta, bel giovane, e vai ad accoccolarti sul divano. Oh, finalmente. Siamo disperati. Sì. Cos'è successo? Perché sono arrivati i giovani. Ecco. Sì, speravamo con i giovani di vivere una buona esperienza. Come ieri sera invece ha iniziato Rocco Hunt. Che, suo nonno come si chiamava? Cos'era? Rocco Bisunt. È la mia vita. No, è un'accozzaglia di luoghi comuni, usati senza ironia, veramente, è patetico. Scusa, mi dispiace, no, perché poi magari è anche un bravo ragazzo, però... No, a me non interessa chi sia, ma lo vedevo da fuori e non lo sento, ma soltanto così a vederlo, lo prenderei a bastonate nei malleoli. È così emozionante che ti fa allentare l'articolazione e muovere i denti. Eh, ma proprio... Ah, guarda, che si vede il gobbo. Ah, ah, non le sai neanche a memoria. Che scarsone, ma bravo, inquadra loro. Luca Colombo e Chico Gussoni, due giganti della chitarra moderna. Levati gli occhiali. Ma cos'è contro il gobbo? Levati gli occhiali che ti infilo un dito in un occhio. Ma cos'è contro il gobbo, scusami? Cioè, qual è il problema del gobbo, scusami? Non far domande. No, ma che mondo che mondo una volta... Nessuno... Cosa c'è? Cioè, sei mai stato a Notre Dame? Cioè, scusa, ci sei mai stato? Io sono di Notre Dame. Ah, infatti sentivo... L'altro ieri ero di Birmingham e oggi sono stato anche del Tennessee. Ma che bel vestitino! No, dicevo che lui... Sembra una pianta grassa, sì. Ecco, sì. Essendo un cantante napoletano, poi, capito? Che con il gobbo e con la gobba c'è tutto un suo perché. Cantante napoletano, che è comunque una dicitura nobile, appiccicata su quello minide, non mi sta bene. Ok, adesso però Hunt se n'è andato. È scivolato. E arriva una bambolina giapponese. Ecco. Direi che è un manga. Mamma mia il vestito. Manga booo. Direi che è un manga. Sembra Arisa con la parrucca. Come la manda? L'amma Arisa con la parrucca? No, Arisa. Ah, Arisa. Sembra Arisa con la parrucca bionda. La... Dunque, però voi l'avete sentito? Questo sembra... Sì, non lo abbiamo ancora sentito perché dobbiamo ancora cominciare a cantare. La canzone di, veramente, di Johnny Bisunt. Johnny Bisunt, no. Allora, parlava di la luce del sole di questo bel paese che entra dalla finestra. Poi parlava del caffè. Poi diceva di non usare il coltello ma di fare l'amore. E quindi... Che se sei tifoso dell'altra mia squadra sei comunque mio fratello. No. Sì, giuro. Ha detto anche questo. L'ha detto, l'ha detto. Grande. Ma se puoi usare il rezzo per dire quelle cose... Ma da dove li saranno? Ma no. E' arrivata queste intuizioni così vagamente, leggermente... Comunque, abbiamo una Winx che canta adesso. È vero. Esatto. È flora. Anche un po' anoxa, posso dire? Sì, è vero. Ha ragione, ha ragione. Anche un po' anoxa. È il caschetto forse, no? C'è l'altro aspetto anoxa, no? Anche un po' ombretta colli. Ma è il caschetto? Anche un po' i denti di Vanessa Paradì. Sì. Sì, anche un po' gli occhi di Topo Gigio. C'è anche un po' gli orecchini di mia zia. Però farei notare la gamba slanciata. La gamba slanciata, ma le scarpe di Paperini. Sono quelle che ti fanno fare i salti altissimi. Vabbè, questa cosa ci sta raccontando sotto sotto? Sta soffrendo, sta soffrendo perché i giovani d'oggi parlano soprattutto di sofferenza, perché la crisi e la mancanza del lavoro, e poi anche la crisi della morale, dei valori, capito? E quindi i giovani soffrono. Certo, con un vestito da 30 mila dollari addosso. La crisi del lavoro, che se lei lo trovasse forse un lavoro di giorno sarebbe anche... Io vorrei fare una domanda. La treccia di chi è? La treccia? Vedi? Ah, è vero. C'è questo vezzo... È la treccia di Bufala del Napoletano di prima. Veronica De Simone. E c'è anche due timbri sulle spalle. No, 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 tu no. Elena, cosa vogliamo... di cosa vogliamo parlare? No, mi sembra molto meglio di quello di prima. Beh, meglio di quello di prima e c'è anche uno scivolone su una lastrone di ghiaccio. Dice così perché quello di prima gli è cattato all'orecchia, cosa di quello di prima non sente più. Per quanto qua siamo in... No, però ieri sera i giovani sono state quattro proposte validissime. No, poi il simba numero uno. Ma state ascoltando il testo? Ma mi rifiuto. Che cosa dice? Non stiamo ascoltando il testo. Perché c'è il testo? Sembravano foneni. Qua disperazione, discese, canto cento volte che tu mi sostieni. Sono cento attimi che passano, stagioni che passano, stelle che cadono, nuvole che passano. Tutto passa e se ne va. E io sono triste e sto male. E c'è anche il fischio. C'è uno che fischia. Perché passavate lì per caso. Il direttore d'orchestra che fischia. Non ci posso credere, ragazzi. Ma scusa Elena, per cortesia. Cioè tu che frequenti i direttori d'orchestra, quelli veri... Fischiano, ovviamente. Sì. Sì. Fischiano magari nel tempo libero, quando vedono delle belle donne, ma non dirigendo. Andate o porta sfortuna a fischiare. Sul palco porta fortuna. Esatto. Come? Ha detto sfortuna. È perché mi è rimasta una S. Allora è sporta fortuna. Uno sporta. Però anch'io sono sarcastico e colpisco duro, però un po' di rispetto ci vorrebbe. Sono su un palco di Sanremo, cantano, insomma, si mettono al pubblico l'udibrio, anche al nostro, quindi... No, ma infatti, cioè, rispetto. Rispetto. No, è vero. Ha detto una cosa, ragazzi, ha detto una cosa che un attimo mi ha colpito. Io butto in ironia tutto, però lui ha detto che è sarcastico. E volevo chiedere, ma è una... È una patologia infettiva, quindi ti consiglio. Ma è curabile o... Non lo so. Perché è sarcaso e mi ricorda qualcosa di biblico. Ma è vero, è possibile. In generale è sarcastico. Ho detto anche pubblico l'udibrio allora, già che ci siamo, no? Però, cioè... Vabbè, visto che ci sta dando tanti spunti per spaccare il televisore, e questa signorina è ritornata Luciannina. Luciannina ha detto una cosa interessante. Come fate voi cantanti a camminare sui tacchi? Come se sono cantanti a camminare sui tacchi? Oltretutto lei ha la Zepa 28. Vabbè, queste cose non avremmo mai voluto vederle. Però, quest'oggi, mi manca tanto l'oggetto a me, tanto caro. È vero. Hanno bruciato il leggio di Joe Pomodoro. Si vede che hanno ricevuto critiche. Allora, stiamo quasi in chiusura. Questo è un momento. Allora, il pezzo che abbiamo appena visto della Winx con il mal di pancia, riassumiamolo in pochi secondi. Era così. E... Ecco, perfetto. Triste. Era così però con l'eyeliner. Sì, è vero. Vero? Con l'eyeliner. Sì. Va bene. Ordiniamo le solite pizze. Tu come la preferisci? Io come la voglio, la capricciosa. La capricciosa. Allora, una capricciosa e tu... Ortolana. Ortolana. Mi piace, così mi tengo... Rizzo ortolana, sì. Tu invece soltanto una birra perché tanto frega, è meglio... È meglio a te, niente. Latte e menta col gutta, Alex. Io una pioggia. Ecco, una pioggia di pizza in faccia. Eh, allora... Ah, no, ma non... C'è Deniro. Ah, no, però questo c'è alcune teatre nel nome. Sì. E anche nel titolo. Deniro. Davide Combusti. Il 1969. È un giovane quindi? No, è il titolo della canzone. Ah, scusa, è il titolo della canzone. Questa vuol essere una grafica. Allora, costui si chiama The T.H.E. Niro. No, però... Scusate, scusate, io lo so che abbiamo parlato di barba tutta la sera, ma vogliamo commentare la barba? Lui ce l'ha solo sotto la barba, guarda. No, veramente, fa anguccia. Come Wagner. Scusate, però questa è... Hai visto? Guarda, c'è la barba soltanto sotto sul collo. Ma è disgustoso. Si vede che gli è finita la lametta mentre la stava facendo. Mi è venuto un attacco di nausea, rimando indietro, non portatela le pizze, non potrei mai mangiarla. Mi è venuto a nausea a vedere la barba di The Nero. 1969, il pezzo scritto da Davide Combusti, che speriamo che... Che abbia una combustione sua, naturale. Un'autocombustione. Un'autocombustione. Esatto. Sull'autobus. Vediamo l'autobus dell'autocombustione. Ah, ostia, molto caldo. Va bene. Scusa, volevo dire una cosa che... Che perché prendi la parola? Vabbè, vabbè, che prima dicevo che la barba a me non mi cresce. Così... Devi parlare di barba papà e non di barba. No, vabbè. Anche a me così cresce, però la taglio io, perché o è una bella barbona o... Cioè, se sono dei peletti così non hanno alcun senso, secondo me. Ecco, e questo è il commento dell'unico giovane presente in sala. Quando apparentemente le frasi e i concetti sono solo apparentemente semplici, perché sotto queste semplici parole, l'ha detto per farlo capire bene a tutti, quanto è demente e cosa non ci sia dentro la scatola cranica. Sotto i capelli niente, e sotto il vestito gente. Va bene. Allora... Oddio, gli essi sono girati gli occhi. Eh, speriamo che stia esalando. Tutti i bianchi. Vedi, 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 vedi. Vedi che giustamente il mio idolo, Simone Mariano, rimanda i momenti clou di questo nostro show. Il direttore adesso, invece di fischiare, c'avrà la lingua di Menelicche. Le lingue di suocera, quelle con dentro la crema. Esatto, con dentro il latte di suocera. Ecco i tuoi amici chitarristi. Grandi, grandi, poveretti. Sì, sì, sono sempre loro, sono sempre loro. Sono due eroi, non vedo l'ora di abbracciarli forte. Però li hanno messi in un bel contesto, dai. Sì, ma infatti, infatti, non lo sono sempre... No, è brutta la scenografia? No, a me piace, invece, a me piace. No, la scenografia non è mai. Perché la parte, diciamo... Troppo indietro. Ritmica è messa, incastonata là, la parte sinfonica è in alto. Non lo so, però io sono un po' in bacheca, così un po' esposti, non so. Però la scenografia è bella. Però fa un po' Chicago. Non ho capito questo, sì, 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 delle volte. Chicago cosa? No, 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 ecco. Fa un po' il musical Chicago. Ah, il musical Chicago. L'ho visto a New York, l'ho visto a New York. Ecco, io l'ho visto a Pente, ma lo fanno in dialetto stretto per quelli di Non Linguamate. Questo ragazzo, la cosa veramente che mi è piaciuta di più è la sua uscita di scena. Ha dato le spalle a tutti noi. Schena dritta. È veramente maleducazione. Cosa stanno dicendo? Il nulla. Rocco De Unt, Veronica De Simone. Quindi Rocco De Unt e De Niro. Quindi sta arrivando... Vadim. Gli hanno messi tutti stasera. No, ce n'è un altro. Sì. Vadim. Gli hanno messi tutti stasera quelli che li hanno messi. Come avevamo previsto, i giovani tutti insieme e tutti velocemente uno dopo l'altro. Bancava solo la base dopo velocità, così facevano prima. Perfetto. Questo è avvenuto con la sciarpa della nonna. Della nonna di Dracula. Deve far freddo lì. Ma io non capisco Fazio. Anche prima ha annunciato il dopo festival. Ha usato una voce da favore. Perché adesso c'è il dopo festival sul sito www. Ma... Ecco, brava. Ma brava. Ma complimenti. Bello, bello, bello. Continua così. Io, io, io al povero maghetto quando tenta di dire delle parolacce lo cazio e lo stracazio e questa qua, immondo visione, continua. Io, io... Che le mie non sono parolacce, poi sono... Ma poi, poi in realtà non ti si può neanche prendere così a male perché non conosci il significato delle parole che pronunci. Non è neanche colpa tua. Giusto. Allora, noi, noi abbiamo qui Roger Vadim. Peppe Vessicchio. Lo sapevo. Lo sapevo. Dopo l'inquadratura di Peppe Vessicchio che è un altro dei miei idoli. Cioè, ma più, più canzoni dirigono, più guadagnano? Non credo, non credo, poveretto. Perché si è in realtà... Direttori a Cottimo. No, in realtà sì, in realtà sì. Perché è... Fanno l'arrangiamento? Eh, sì. Ha arrangiato 700 pezzi, ha diritto 700 canzoni. Oltretutto, tutto è orrende, poveretto, che lui è un grandissimo. Comunque, la modernità. Io mi concentrerai sulla modernità del pezzo. Esatto, mi concentrerai anch'io sulla modernità per andare in pausa. Perché la modernità è non sentire quest'uomo con la sciarpa della nonna di Dracula. Simone, tu sarai d'accordo? Perché anche te hai una pazienza che ha un limite. E soprattutto la sua vescica, forse, ha un limite. Ecco, è vero. Simone, dacci segni di vita perché so che probabilmente... Assolutamente sì. Sempre d'accordo con te. Sempre d'accordo, siamo un tutt'uno. Va bene, ci rivediamo fra poco canale 215, primo canale sound, Pippo Sound Festival, perché per un attimo qua, mi è sfuggito un attimo di mano, Luca, Lisa, si sono impossessati del posto centrale. Ci vediamo fra molto poco. in collaborazione con Fortesan, un amico su cui contare, sempre.